Due morti e due feriti gravi in condizioni disperate. E' il tragico bilancio di un sabato di sangue a Palermo. A perdere la vita a soli 19 anni, intorno alle 3 della scorsa notte, è stato Giuseppe Ricotta. La sua motocicletta si è schiantata contro un palo dell'illuminazione in via Filippo Parlatore, all'angolo con via Gian Giacomo Adria. Sembrerebbe a causa dello scontro con una lancia Ypsilon guidata da una ragazza. A bordo del Piaggio Liberty, insieme al giovane, c'era anche una diciottenne che si trova ora ricoverata in rianimazione all'ospedale di Villa Sofia in condizioni disperate. In via della regione siciliana, invece, nei pressi del ponte Giaffar, è un altro incidente con la dinamica simile. Lo scontro tra una moto e un'auto ha provocato quattro feriti, di cui due in prognosi riservata ricoverati all'ospedale civico e al policlinico. Simona Contrera, non ancora diciottenne coinvolta nell'incidente e che era in condizioni gravissime, ha subito un lungo intervento all'ospedale civico, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita. In mattinata, però, è stata annunciata la morte cerebrale della ragazza. Al giovane che era a bordo del motore con lei, insieme appunto a Simona Contrera, ricoverato al policlinico, anche lui in gravi condizioni, è stata amputata una gamba. Grazie a tutti. Grazie a tutti.